Il punto sulle prospettive e il futuro del settore circense, l'ente nazionale Circhi ha organizzato a Roma una giornata di confronto. Andrea Marini. Claudio Baglioni nel suo intervento lo ha voluto fissare in tre sogni. Il sogno del bambino di fronte alla meraviglia del circo d'ogni tempo, il sogno dell'uomo di fronte al buon vivere degli animali nel circo e quello dell'artista dietro al viaggio del suo circo di musica e parole. È il circo dei colori della meraviglia infantile che ora però si è confrontato in una giornata promossa dall'ente nazionale Circhi con le proprie problematiche, in un approccio professionale dinamico di fronte alle nuove realtà e alle nuove sfide. Lavoriamo in un paese dove la cultura è tenuta veramente in poco conto, mentre all'estero sono forse la prima, come in Russia, come in Cina, in Germania, in Francia, in Belgio, sono forse, non dico la prima, ma la prima e la seconda arte rispettata e amata dal pubblico. È una realtà itinerante quella dei circhi, un centinaio in Italia, che talvolta deve prendere la strada dell'estero, non per mancanza di pubblico, ma perché i comuni non mettono a disposizione, come dovrebbero in base ad una legge del 68, che si chiede e si è resa più incisiva, aree pubbliche dove lavorare. Ma i circhi vengono da taluni attaccati per la presenza storica degli animali e quando una giraffa scappa, scattano i titoli dei giornali, dicono, sottolineando che questi per loro sono costosi compagni di lavoro, i quali dunque vengono accuditi al meglio. Ma il mondo del circo, in questa occasione, in una linea di trasparenza, ha varato un codice di autoregolamentazione sull'addestramento, stabilazione e trasporto. Ma è da lavori emerso che il mondo circense richiama molti giovani con voglia di rendersi protagonisti, non solo artisticamente, ma anche in maniera menageriale. Ed intanto il tredicenne Michael Martini fissa il suo nome nel Guinness dei Primati per essere il primo al mondo ad effettuare il quadruplo salto mortale.